Ma come ho fatto a comprare queste scarpe? Sono esattamente come quelle che ho, solo che sono rosa. Non mi servono e non sono neanche ortopediche. Ma tu eri lì che ti bevevi tutto quello che diceva. Secondo me sapeva fare il suo mestiere, era molto professionale. Lo vedi, sei un ognoccolone. Ti incontri uno e... Guarda. Oddio, abbassa il finestrino, dobbiamo dirglielo. No, se si ferma il pesce cade. D'altra parte anche se rallenta cade. La cosa migliore per quel pesce sarebbe quella di farlo andare alla stessa velocità. Ma sì, certo, per sempre. Mi sa che questi sono gli ultimi momenti della sua vita. Vogliamo dire due paroline? Io non ti ho conosciuto, ma voglio che tu muoia sapendo che sei stato amato. Io ti voglio bene. Ehi! Era sul suo tettino! Adesso le veniamo davanti! Mettiti davanti a lui, dobbiamo farlo andare a velocità costante. Mantieni lì a velocità costante. Oddio, a quella bambina toccherà vedere tutto. Ma almeno lo sanno. Almeno condividiamo tutti questo momento. Mettiti davanti a lui. Grazie a tutti. Grazie a tutti.